Che cos'è un gelone? Può formarsi un gelone se qualunque parte del corpo diventa molto fredda. Le dita delle mani e dei piedi prenderanno facilmente i geloni se passate molto tempo nella neve o nel ghiaccio. Il freddo intenso impedisce al sangue di circolare. Se questo dura troppo a lungo la carne muore e la pelle può seccarsi. La punta del naso e le dita delle mani e dei piedi sono le zone più facilmente colpite dai geloni. Tuttavia devono stare al freddo molto a lungo perché questo succeda. Grazie a tutti.